A mari estremi, estremi rimedi e così sul fronte dell'inquinamento atmosferico l'amministrazione comunale fanese passa al contrattacco. Circolazione vietata attorno al nucleo del centro storico, grosso modo il perimetro è quello dei divieti per il carnevale, con blocchi davanti alla stazione, al semaforo del Lido e su via Roma, con la circolazione del traffico in transito ad Anello, per due domeniche consecutive, quella del 26 gennaio e del 2 febbraio, dalle 9 alle 19. Fate salve le deroghe per i permessi concessi alle persone con disabilità, ai mezzi di soccorso e di polizia. Per chi invece deve recarsi al centro storico, escluso il parcheggio della caserma che rientra nella zona rossa, si potrà lasciare l'auto al parcheggio del Van Vitelli, a quello del Foro Boario e al parcheggio del cimitero centrale. Per il resto il centro rimane blindato alle auto, sia in entrata che in uscita, anche per i residenti. Due domeniche ecologiche quindi per fronteggiare un'emergenza. In questi primi 15 giorni del 2020 la centralina di via Montegrappa ha rilevato numerosi superamenti della soglia massima di PM10 nella nostra città e proprio il 15 di gennaio c'è stato un superamento particolarmente importante di 93 mg per metro cubo e tenuto conto che il limite 50 è chiare le dimensioni anche dell'emergenza e aggiungo dell'urgenza con la quale l'amministrazione comunale vuole e deve intervenire, l'area del centro storico. È un'area comunque critica perché ovviamente il traffico di attraversamento dell'Adriatica e della Flaminia converge proprio nel cuore della città e quindi intervenire in quest'area ha un suo valore strategico. Queste due domeniche unite poi a quelle tre del carnevale in cui comunque la circolazione sarebbe stata vietata nelle orari della manifestazione daranno modo all'amministrazione di capire se questa contromisura un po' draconiana e dai risultati soprattutto auspicati con i dati a disposizione della centralina di via Montegrappa che a fine mese potranno dare le giuste considerazioni. Partendo dal presupposto che la tutela e la salute dei cittadini viene prima di ogni cosa per non poi preoccuparci dopo quando le cose si sono verificate. Siamo consapevoli però che non ci possiamo fermare qua su questa riflessione, su questi interventi che magari sono immediati e limitati nel tempo. Dobbiamo ragionare anche in prospettiva perché queste situazioni si verificheranno periodicamente anche in futuro, anche negli anni successivi perché questi sono dei picchi ma in realtà la situazione è costante ormai nel tempo, quindi dovremo ripensare anche delle abitudini, dei metodi per vivere la città.